Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale. Intanto è un ritorno dopo il periodo di sospensione natalizio e vorrei fare un po' il punto di una situazione che credo sia interessante e coinvolgente per tutti. Parto dallo spunto della vignetta, quello di confrontare una realtà che tutti noi abbiamo toccato nel nostro quotidiano. Tutti abbiamo visto già da mesi e mesi aumentare le bollette, perché adesso è il clou, ma già gli aumenti forti ci furono lo scorso anno. Abbiamo visto salire tante cose del carrello della spesa, abbiamo visto salire da molte parti già il prezzo della tazzina del caffè. Insomma tutti noi avevamo la percezione che chiaramente ci fosse già un'inflazione in quella che noi possiamo chiamare l'economia reale. Eppure i grandi governatori delle banche centrali continuavano a dire che questo sarebbe stato un fenomeno passeggero, temporaneo, salvo poi correggersi in corsa, cambiare il tiro e cambiare completamente le politiche. Di questa dicotomia tra quello che si studia sulle carte e sui numeri e quello che invece accade nel contesto della realtà, nel contesto del quotidiano, noi ne abbiamo avuto già molti esempi. Pensate per esempio alle difficoltà che uno che fa tutto un percorso di studi, le scuole superiori, e poi magari le università dove impara alcune cose, studia delle teorie, delle formule, poi viene ribaltato di punto in bianco nel mondo del lavoro, dove scopre che sì, le cose vanno come ci siamo spiegati, c'è anche magari la meritocrazia, ma esistono anche le gelosie dei colleghi, i giardinetti da difendere. E quindi non sempre tutto è fatto nell'interesse collettivo. E per esempio anche, non so, pensiamo a quando uno, adesso non si usa più, ma una volta si faceva la naia e scoprivi che in molti contesti l'anzianità, il cosiddetto nonnismo, contava più a volte anche addirittura dei gradi. Quindi sono delle cose che hanno sempre contraddistinto la differenza tra quella che in un certo modo si chiamava l'università degli studi e quella che invece si chiamava la street university, l'università della strada. E la verità è che bisogna avere probabilmente un po' di entrambe le doti per, diciamo così, saper vivere, saper stare al mondo e barcamenarsi tra tutte queste situazioni. È un po' quello che succede sui mercati, perché quando noi ci approcciamo ai mercati finanziari ci piace pensare che un approccio di studio sia quello giusto, capire le correlazioni tra le varie asset class, individuare, diciamo così, quali sono i settori che possono andare in un momento piuttosto che in un altro, capire delle regole di conseguenze per cui se accade una cosa poi magari ne accade un'altra, studiare da libro come suddividere un portafogli per evitare di essere sovraesposti su qualcosa, e poi trovarci di fronte a dei mercati finanziari che in qualche modo manifestano un po' la stessa cosa che c'è di differenza tra l'università degli studi e la street university. Noi parliamo di economia sui libri e poi parliamo di street economy per parlare dell'economia della strada, parliamo di università degli studi e di street university e poi ora io vorrei coniare anche un nuovo gergo che potrei chiamare lo street trading, perché? Perché noi se andiamo ad affrontare alcune situazioni ci troviamo in presenza di cose che ci lasciano un po' pensare. Recentemente per esempio abbiamo saputo che BlackRock, una delle più grandi gestioni a livello globale, ha raggiunto i 10 trillion, quindi 10 mila miliardi di dollari, faccio anche fatica a dirlo, di masse amministrate. Non pensate, vuol dire che potrebbero alla capitalizzazione attuale comprarsi oggi Apple, Microsoft, Google e probabilmente anche Facebook, potrebbero comprarsi, o forse Amazon, potrebbero comprarsi tutta questa roba con le masse che amministrano. È una concentrazione di denari incredibile e pensate quanto possano come dire dirigere i mercati a seconda dove andranno ad allocare i loro budget, sono determinanti nelle scelte. Scopriamo anche che alla faccia della diversificazione del portafoglio, guardando sul sito Data Roma si vede che Warren Buffett concentra malcontrati, quasi uno su due dei dollari che investe su Apple, quindi insomma c'è una situazione molto particolare, ma quando poi uno approfondisce il trading e pensa di fare le valutazioni sui fondamentali delle società, che oggi sembrano contare poco più di nulla, qualcuno parla di dover cercare nuovi parametri per definire l'andamento attuale e noi cominciamo a capire anche che ci sono fondi che puntano sui crolli di certe imprese, di certi business attraverso lo short interest, oppure ci rendiamo conto tanto più entriamo in tra dei suoi mercati che ci sono i cacciatori di stop, che ci sono i software che si combattono uno contro l'altro e che le banche centrali fanno dopo in finanziario immettendo nel sistema tanta liquidità che in qualche modo droga a mercati che salgono senza aver timore di nulla da tanto tempo, da tanti anni. E così capiamo anche quanto l'industria degli ETF è determinante. Prima tanti acquisti, magari tanti acquisti anche di ETF passivi, che poi si riversavano sui mercati e compravano soprattutto le azioni più capitalizzate, quindi per esempio le Big Five americane. Oggi magari c'è qualche redemption, cioè c'è qualcuno, qualche gestore che dice ma restituisco un po' di ETF e allora vediamo che queste sono le azioni che scendono di più e subito stiamo a spaventarci. Invece forse dovremmo essere sempre sul pezzo con quella che è la cultura finanziaria, di cui non ce n'è mai abbastanza, ma proprio la cultura finanziaria deve suggerirci che quando si fa trading, quando si fa swing trading e anche quando si fanno investimenti a breve e medio termine, diciamo che bisogna aggiungere a tutte queste doti anche un po' di qualità che ci fanno animaleschi e istintivi, perché di questo vive un po' questo mondo. Serve acquisire la consapevolezza per poi saper stare al mondo e capire che oltre al trading quello studiato sui libri, oltre al trading delle correlazioni tra asset class e quant'altro, c'è lo street trading di chi sul mercato ci sta tutti i giorni e sono due mondi molto diversi ai quali bisogna abituarsi. Credo che questa osservazione, questo puntualizzare, questo contesto vi farà, come dire, riflettere perché sono convinto che molti di voi la pensino esattamente come me. Questo è tutto per questa settimana, alla prossima, ciao! Grazie a tutti!